Sasse, disco in pedana, grazie. Intanto il risultato della 60 per i ragazzi, Leonardo Loretto per l'Atleti Capo Aghe, 8,49. Guarda, bisogna vedere, magari non c'è la calza orso. Vabbè, stiamo un po' solo. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Sì, scusate. Grazie. 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 Nicolo Piana per Sorso e Fabio Pintus per l'Atletica Proaghe per le calette Paola Virde per l'Olimpia di Bolotan per quanto riguarda i 100 metri abbiamo tre serie tre ASD Atletica Sporting Nicolo Piana per Sorso e Fabio Pintus per l'Atletica Proaghe per le calette Paola Virde per l'Olimpia di Bolotan per quanto riguarda i 100 metri abbiamo tre serie tre uomini abbiamo già la seconda Daniele Sias centro culturale Sorso in seconda corsia in terza corsia Francesco Pilastri i guerrieri del Pavone terza corsia di Bologna e ciòsia di Bologna e ciòsia di Bologna che hanno già il suo nome per la prima volta e ciòsia di Bologna si tratta di Bologna e ciòsia di Bologna Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.